Ciao a tutti, mi chiamo Laura Lanfranchi, sono un soprano, io lavoro al Regio. Ciao, io lavoro al Regio, sono Luca Lorenzon, elettricista, tecnico luci. Canto nella sezione dei soprani secondi e sono in questo teatro da 23 anni. Mi chiamo Grazia De Marinis, lavoro al Teatro Regio e in questo momento ci troviamo in Sartoria, lavoro in Sartoria da 13 anni, 13-14 anni. Per me è ovviamente uno dei lavori più belli a cui potresti aspirare perché devi essere forse a volte un po' pazzo, un po' avere l'idea di non avere orari, giorni, sere, festivi, così, ma a me piaceva così. È stato un periodo molto difficile naturalmente per tutti noi perché non poterci esprimere, non poter andare sul palcoscenico e comunicare direttamente con il pubblico è stato molto frustrante. Il nostro lavoro consiste nel provare i costumi del coro, dell'orchestra, delle comparse degli artisti per le varie opere. In questo momento sto facendo una rouge per una gonna di bohème. Riiniziamo a fare opera con quello con cui avevamo finito, la bohème, che avrebbe dovuto andare in scena prima della chiusura. È un'opera che amo particolarmente perché suscita una grande nostalgia di un momento della vita che tutti noi abbiamo vissuto, che è quello del sogno, della giovinezza, della speranza, della condivisione. Grazie a tutti.